E lo dico con chiarezza, giù le mani dal nostro mare, questa cosa la faremo con determinazione e la faremo tutto l'anno con maggiore intensità nel momento in cui c'è una maggior pressione antropica sul nostro mare, che è la stagione estiva. Quindi giù le mani dal nostro mare chi intende fare le vacanze non rispettando l'ambiente, con alcuni strumenti in più che noi quest'anno abbiamo messo a disposizione, perché il governo, cioè il Parlamento ha approvato una legge importante che è quella degli ecoreati, che dà degli strumenti in più e manda un messaggio forte più che altro, che chi inquina non solo paga ma va anche in galera, che non è cosa da poco.